Per poter presentare le pratiche edilizie, paesaggistiche e impiantistiche presso il Comune di Trieste è dal 2019 attivo un servizio tramite portale telematico. Per poter accedere ai nostri servizi legati all'edilizia privata occorre andare presso il sito istituzionale del Comune di Trieste e cliccare sulla sezione servizi. Visualizzati i servizi cercherete quello legato all'edilizia privata ovvero sia sportelle edilizia private e servizi e pratiche online. Arrivate alla pagina iniziale potete trovare cosa fare, seguire la pratico, consultare l'archivio. Se voglio inviare la pratico online clicco su inviare la pratica online e vi si aprirà un'area riservata di benvenuto dove saranno richieste le vostre credenziali per poter accedere al servizio. Le credenziali possono essere un codice fiscale e una password rilasciata dal Comune oppure tramite accesso con cns e carta digitale oppure accesso ai servizi tramite speed, il sistema pubblico di identità digitale. Vi troverete su una scrivania virtuale dove vi è un benvenuto che spiegherà esattamente gli step da dover eseguire per poter comunicare e per poter inviare delle pratiche, una segnalazione oppure anche per consultare semplicemente lo stato dell'arte delle vostre pratiche. Andando avanti troverete la sezione informativa privacy e dopo troverete l'individuazione dell'attività e dell'evento. In questo modo potete appunto scegliere quelle che sono le pratiche da dover eseguire, una scia, un PDC, permesso di costruire, una comunicazione inizio lavori o anche semplicemente una prenotazione con i nostri tecnici del servizio edilizia.